Parole per sognare, sarà la fiera di Torino, Neppe Edizioni ci porta con sé nel suo stand, una collana dedicata a grandi e soprattutto piccini e a tutti coloro che vogliono ancora immergersi e giocare con la fantasia. Io sono Enrica Cammarano, sono una delle autrici di libri che troverete allo stand di Neppe Edizioni, sono anche direttrice della collana e sono molto contenta di questo. Sapete dove traggo l'ispirazione per i miei racconti, per le mie filastrocche? Ho la fortuna di lavorare in un parco divertimenti, in Cinecittà World, a Roma. Qui ogni giorno incontro grandi e piccoli, sono proprio più piccoli, a regalare le emozioni, a donarci molto più di quello che ciascuno di noi possa credere e pensare. Faccio tesoro di tutto questo, la sera prendo la penna in mano, mi lascio andare e anche inconsciamente racconto quello che ho provato, quello che ho vissuto. Allora ci vediamo a Torino, intanto buona lettura!